Professor Sapere, quanto è stato importante per lei parlare della consapevolezza del rischio sismico nelle scuole? È un lavoro che ci vede impegnati già da anni, perché noi abbiamo aderito a Red Resism sia come liceo sia come Cristoforo Mennella già negli anni scorsi. Abbiamo condiviso questo progetto della realizzazione della tavola vibrante didattica e quindi dopo aver montato, assemblato l'esemplare che ci è stato consigliato dalla Red Resimi, quindi dai vertici che sono a Bologna, alla scuola Alderini Valeriani, adesso siamo pronti per poter passare alla fase di divulgazione per le due plateche scolastiche, sia quella del liceo sia quella del Cristoforo Mennella. Quindi è un caso di sinergia tra due scuole tese proprio ad aumentare il senso di consapevolezza dei ragazzi e la conoscenza di elementi semplici che poi aiutano la vita di tutti i giorni.